Con il presidente Ivano Bosco Lobiello sono quelle soddisfazioni, in un pomeriggio un po' freddino si è riscaldato il nostro cuore perché abbiamo fatto veramente una grande partita. Una partita che a mio avviso è meritata, la vittoria è meritata, la partita è stata giocata bene, una bella soddisfazione perché vincere un trofeo così importante anche per la città di Chioia dopo 20 anni, perché mi sembra che sia passato 20 anni, è una bella cosa quindi siamo contenti, sono stati sui spogliatoi, i ragazzi sono felicissimi, però questo deve essere per noi un punto di partenza che abbiamo in campionato, abbiamo altri obiettivi. Ecco la situazione che andavamo ad analizzare appunto in tribuna era stata quella molto più vicina alla Claudienza e al secondo gol che non nell'Ambrogiana e alla rete del pareggio. Mi sembra che l'Ambrogiana non ha mai tirato in porta, quindi noi abbiamo ottenuto sempre il pallino del gioco, abbiamo avuto qualche occasione, è stata una partita un po' tattica, il primo tempo, però a mio avviso è meritata la vittoria. Un 2017 che si apre proprio nella maniera che era desiderata dalla tua formazione. Meglio di così, adesso dobbiamo comunque, ripeto, questo è un punto di partenza, non essere sempre umili, sempre il suo pezzo, e giocarsi tutte le partite di campionato che è il nostro obiettivo principale. Grazie Presidente e ci gustiamo naturalmente la festa con tutti anche i ragazzi del settore giovanile che hanno applaudito tante volte. E anche un saluto da parte del Sindaco che mi ha scritto un messaggio, che ci ha fatto un bocca al lupo il Sindaco e che non ha potuto partecipare, un saluto anche da lui. Grazie Presidente e linea che torna allo studio.